Buongiorno e benvenuti a tutti a questa edizione di Occhio ai giornali delle 7.30 in diretta. Buongiorno anche a chi ci segue naturalmente in replica alle 9.10 alle 13.30. Subito il santo del giorno, lo vediamo insieme, Santa Bernadette, chi non conosce questa grande santa. Allora Santa Bernadette, il sole è sorto alle 6.23 e tramonterà alle 19.53. Vediamo il tempo, allora la fotografia intanto nella nostra città, la città di Fano che si sveglia con un bel cielo azzurro. La temperatura è alta alle 7.30 del mattino, quindi si prevede un aumento ulteriore, 25 gradi nel pomeriggio, una giornata dove chi può può prendere il primo sole nel pomeriggio. Sono 15 gradi alle 7.30 di stamattina. Allora andiamo a vedere adesso le previsioni per la giornata di oggi. Cielo sereno poco nuvoloso con temperature in aumento per domani, venerdì 17. Si guasta il tempo, vedete la pioggia mista e schiarite sulla costa, mentre pioggia con nuvole e densamenti nell'entroterra. Saranno possibili durante la mattinata con deboli piovaschi o brevi rovesci nelle zone interne ed occasionali altrove. Fenomeni in completo esaurimento entro la mattinata. Le temperature sono in lieve, diminuzione nei valori massimi e stazionare in quelli minimi. Poi sabato 18 invece, il fine settimana, avremo cielo poco nuvoloso, quindi comunque migliore rispetto a venerdì 17, con temperature minime stazionari, venti di bellezza leggera. Per domenica giornata prevalentemente soleggiata con alternanza di annuvolamenti e schiarite. Dalla serata è atteso un peggioramento con piogge sparse che interesseranno gran parte della giornata di lunedì. Poi per martedì residui, fenomeni nelle zone interne e un netto miglioramento invece del tempo a partire da mercoledì. Allora, cominciamo dalla pagina di Fano del resto del Carlino. In apertura in evidenza il Carnevale che spolpa, secondo qualcuno, le risorse e così uccide la Fano dei Cesari. Dunque il Carnevale prenderebbe troppi fondi a discapito di un'altra manifestazione che per qualcuno importante, come Renzo Capecchi, presidente della Conf Commercio, ai danni, dicevo, della Fano dei Cesari. Capecchi attacca il Comune con 50 mila euro. Si può fare solo la corsa delle bighe. Poi si parla anche delle bordate all'ASET. È vergognoso che una società del Comune prenda il 23% dalla tassa di soggiorno. E sempre a proposito di ASET, il caso ASET, il Partito Democratico Fanese ammette l'assunzione è stata inopportuna e chiude il caso. Poi sotto, invece, Porto ed Intorni, crisi della pesca, arrivano i 5 Stelle, incontro con l'euro parlamentare a fronte. Continua la polemica tra il sindaco e i grillini. Tensione tra i dipendenti comunali, sette trasferiti a Mondolfo. Si procede su base volontaria, ma non solo. È previsto anche un incontro e questa è una delle tante conseguenze del referendum sull'unificazione di Marotta. Poi, il dibattito su questa scultura, questo è un disegno, un rendering, si chiama in gergo tecnico, quindi ancora non la trovate posizionata perché non c'è, è solo un disegno. Dunque, è un rendering della scultura di Lugli vista dal lato di Marotta. Però c'è qualcuno che suggerisce di sostituire questa scultura con qualcosa che riguardi la battaglia del metauro. Il Carlino questa mattina pubblica questa lettera dove spiega appunto il perché e il per come. Sulla sanità invece a Fossombrone, la sanità a Fossombrone è il tema di tutti i giorni, sembra che a Fossombrone si parli solo di sanità. L'ora del confronto a Fossombrone nella cooperativa articolo 32 lancia un dibattito. Un dibattito sicuramente interessante questa sera al Palazzetto dello Sport di Viale Cairoli i candidati alla Presidenza della Regione, quindi chi ha cuore le sorti della nostra Regione può andare a sentire come la pensano i candidati alla Regione Marche sul tema della sanità. Un tema, come dicevo, sentito e caldo. Una notizia che riguarda la morte di una donna che per tre anni e mezzo è rimasta in coma. In coma per una sportellata. Lunedì scorso è morta purtroppo. Questa mattina alle 10 si svolgeranno i funerali a Madonna di Loreto a Pesaro. Si chiamava Concettina Villani, pesarese di 55 anni, sposata, due figli, nonna di due bambini, conosciuta da generazioni di alunni perché era la bidella della scuola Don Gaudiano. Parla questa mattina al giornale Il Marito, il marito Roberto Ceroni, racconta un po' come sono andate le cose. E l'indifferenza dell'automobilista che aprì la portiera e poi è sparita. Non si è mai fatta sentire, dice. Andiamo avanti con il giornale. Chiudiamo il resto del Carlino con la cultura, Monaldo, Leopardi e il figlio. Tutta la verità nell'autobiografia. Domani ai musei civici di Pesaro, 17.30, con letture di brani. Poi una notizia di spettacolo, lo show di settembre di Violetta, che raddoppia all'Adriatica Arena. Il 13 di settembre c'è questo spettacolo che era previsto alle ore 16 per una marea, un oceano di bambini in delirio per questa showgirl. Ebbene, siccome i biglietti sono andati a ruba nel giro di pochissimo tempo, hanno deciso di raddoppiare e di fare un secondo spettacolo in serata alle 20. La decisione appunto è stata presa per, in seguito, scrive il Carlino, all'incredibile richiesta di biglietti. Apriamo adesso il Corriere Adriatico. Pesaro Rovigno, che cos'è? Una regata, una regata velica. Torna alla classica del primo di maggio. È stato presentato il programma. Poi centropagina, niente emergenza con la nuova Darsena. Ricci e Capuzzimato confermano tutti gli interventi strutturali e lo spostamento di 70 natanti, 70 imbarcazioni. A Fossombrone, dicevamo, faccia a faccia tra sindaci e candidati. Sanità dell'entroterra in vista delle regionali. Mancherà solo l'attuale governatore Spacca. Per non trovarsi in difficoltà, avendo governato dieci anni, ovviamente non ci va. Anche perché è l'unico che può dare risposte. Gli altri ancora devono, uno di loro dovrà governare probabilmente. Via Tognolo, a Fano, dieci anni per realizzarla. È il termine concesso alla Profilglas per la strada che attraversa lo stabilimento. Protestano i grillini. Due anni di tempo per via. Non so se è la valutazione di impatto ambientale. Vampa, mentre parcheggio e compatto... Boh, che è stato? Vabbè. Andiamo sotto. Scintille per l'assunzione ad Aset. Severi sfera un duro attacco al Partito Democratico. Al vertice politico in ascoltato l'invito del partito a tacitare la polemica. Ancora dal resto del carino. Parcheggiate al Van Vitelli e l'invito dei vigili urbani di Fano e residenti del Centro Storico. Martedì si farà un sopralluogo. Mentre sotto vedete la notizia dell'euro parlamentare che sarà a Fano, Marco Affronte, rappresentate le 5 stelle alle 5 e mezzo del pomeriggio al laboratorio di Biologia Marina, proposte contro la crisi. Ancora dal Corriere sono riusciti, dunque, nell'intento di portare la Notte Rosa anche a Marotta e dunque la cittadina è inclusa nel programma. Ricorderete che è cominciato Pesaro, poi si è allargata la Notte Rosa su Fano. Fano ha detto che siamo tutti felici. Poi si è prolungata fino a Senigallia, ma saltando Marotta, Mondolfo. Ecco, adesso invece la notizia di oggi è che anche la cittadina di Marotta avrà la sua Notte Rosa in quel contesto. Quindi sarà tutto dalla Romagna fino a Senigallia. La Senigallia, la pagina del Corriere, questa mattina si occupa di un'estate di movida tranquilla. Il questore capocase incontra il sindaco di Senigallia Mangialardi. Per la stagione si punta a sei uomini della sicurezza, insomma, sei uomini delle forze dell'ordine in più. Mentre, questa è curiosa, ma insomma, due persone che chiedevano l'elemosina sono state multati e hanno subito pagato la sanzione. Ecco, quindi questo per dire, insomma, che alla fine rende anche l'accattonaggio. La pagina di Pesaro del messaggero si occupa del lavoro nero, la piaga del lavoro nero. Dati elaborati dal sindacato su 1.220 aziende controllate, ben 606 risultano irregolari. CGL, la crisi ha generato situazioni poco chiare, la CISL più controlli sui voucher. Scusate. Poi, raccolta dei rifiuti in centro, pronti a cambiare di nuovo. Dopo le proteste, siamo a Pesaro, è contro il porta a porta ingiunta, si pensa adesso di abolirlo. Poi, così la provincia ricorderà il centenario della grande guerra. Lo fa con una serie di mostre, spettacoli, visite e concerti. Il prefetto Pizzi, che vedete nella fotografia, dice facciamo capire alle nuove generazioni i sacrifici compiuti. Ancora, dalle pagine interne, terzo mandato di spacca. Renzi è infuriato, non ho segnalazioni, dice spacca. Forza Italia sta con Marche 2020, oggi l'incontro per firmare l'accordo. Morani, del Partito Democratico, dice disagio profondo per l'alleanza del Presidente. Ancora, da Pesaro, rifiuti in centro, pronti a cambiare. L'amministrazione ha già avviato un confronto e presenterà una proposta martedì in Consiglio. Andiamo sulla pagina di Fano. La Profilglas divide anche per la viabilità. Nuove polemiche dopo l'approvazione dell'ampliamento. I grillini protestano e dicono ridicolo che l'ente chieda all'azienda di ultimare via Vampa e non di intervenire su tutto l'asse. Poi, per quanto riguarda l'assunzione all'Asit, il Partito Democratico chiarisce con gli alleati, mentre binari e nuove case, scontro sull'ex ferrovia. Poi antenne dei telefoni, via libera per il piano. E con... no, andiamo sull'ultima pagina, giorno e notte. Volevo leggervi anche questa. Sempre più sbancati. Eccola qua. Fano, il regista Secchiaroli, pronto al sequel del film, Cult. Intanto da oggi mette in vendita nell'edicole il DVD degli sbancati. Quindi il sequel, quindi ci sarà gli sbancati due. La lavorazione di questo film, se non ricordo male, sarà più o meno durante l'estate. Ok, allora, noi ci fremiamo qui. Grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa. Rassegna che torna domani mattina alle 7.30, come sempre in diretta. Questa sera invece alle 8.30 di sera, alle 20.30, abbiamo il telegiornale Occhio alla Notizia. Ma vi ricordo che abbiamo anche il sito internet, occhioallanotizia.it, dove troverete tutti i filmati, tutte le cose che vedete in televisione. Quindi le potrete rivedere anche le sezioni video in qualsiasi momento. Poi c'è la nostra applicazione su Google Play. E vi ricordo anche che le vostre segnalazioni sono sempre per noi molto importanti. Quindi continuate a farci le vostre segnalazioni al 338 4968 250 oppure redazione at occhioallanotizia.it oppure ci chiamate in ufficio allo 0721 86 14 33. Davvero tutto, grazie e buona giornata a tutti. Grazie 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 a tutti.